Ho trovato modo durante questo workshop di lavorare su me stessa nella parte della meditazione cercando di raggiungere quello che era il mio obiettivo per la giornata e Sara mi ha accompagnato in questo. E in queste occasioni lei ci guida verso la nostra creatività che per me è stata sempre negata, da piccola a scuola mi hanno detto che non sono mai capace di disegnare e quindi per me l'arte esprimere attraverso il disegno è una grande difficoltà. La trovo un'esperienza veramente molto bella che consiglio a tutti perché ci sono diversi step dove tu puoi veramente staccare dalla routine quotidiana e ricaricarti di energie positive condividendole anche con gli altri partecipanti. E mi è piaciuta tantissimo l'esperienza di riportare in arte, quindi in dipinti, per quanto mi è possibile, le mie sensazioni e quello che provo nello svolgimento di questo workshop. In uno di questi esercizi quando mi sono messa ho creato veramente il caos come base di sottosfondo perché non sapevo, pensando che non sono capace. Io penso che al giorno d'oggi ci vuole. Il workshop inizia con una meditazione in questo parco molto bello. Devo dire che questa giornata mi sta aprendo il cuore. Sono davvero contenta di aver aderito e lo consiglio vivamente a tutti perché è un'esperienza che apre, apre il cuore, secondo me. Apre il cuore e ti lascia delle bellissime sensazioni. Sono soddisfatta. È un'esperienza che apre il cuore, proprio come i colori che aprono e riscaldano. Infatti mi sento molto calda dentro, mi sento in pace, in armonia, in serenità. Facendo qualcosa dedicato solo a te stessa. Perché qui siamo in un bellissimo ambiente dove si svolge questo evento armonioso. Poi la luce oggi con la serenità che c'è fuori, proprio i colori in questa stagione è veramente il massimo di quello che poteva essere. A San Colombano all'Ambro, nelle colline di San Colombano all'Ambro, in questo spazio immerso nel verde molto bello. Sono bellissime anche le persone con cui condividiamo l'esperienza. Grazie di cuore, Sara. Molto contenta. Grazie, Sara. Bello, veramente bello. Complimenti. È organizzato molto bene. Mi sento proprio serena. Non penso che sia una banalità, anzi al giorno d'oggi penso che sia un gran punto di arrivo. Mi sto proprio rilassando e godendo la giornata. Molto bello, complimenti.